Pagodalprio, nonno. Pagodalprio, nonno. Pagodalprio, nonno. Pagodalprio. Noniamo tutto il caes, pago di nuovo. Insomma. Almeno giuriamo tutti 3, sennò... A forza non ci siamo pure giocando in 3, però il problema è che siamo contro squad. No, facciamo pronto. Vai, Rimbauder, ho dovuto meglio di capire. Dov'è Pagodalprio? Dai Martozzi. Sta rosicando, Pagodalprio? Sto raccolando ancora, non è vero. No, ma prima ha rosicato quando ci hai mandato la foto. Sì. Ti ha detto? No, un po' ha rosicato. No, vai perché... Ho detto? Da corto, però... Devo fare i... Meglio da corto che il Magic. Mi ha detto che il Magic è il discanso, capito? Ma vabbè, aspetti che facciamo la quarta parte... No, vabbè, non sono più, probabilmente... Solo trovo che il Magic è il discanso, capito? Non si aveva fatto. Si è capito di aver finito il gioco, però... L'amato aveva una mano? No, no. Ho distrutto uno, in realtà. L'amato, avevi un compagno di qui. Si, sta sul tetto la uno... E l'altro, non lo so... Forse saranno due team diversi. Si, mi piacciono due team diversi. Ok, ho 29 a bianco. L'ho ucciso. L'altro, lo so dove, non c'è? Giamano, non ho dato un pochino. Ma Giamano, mi stia rubando sto mandito. Ho fatto un P31, ho fatto. Mi scusate, si morfano con me, però... Mi avevo dato un pochino, ci ho fatto un P31, sincero. Ma fate? Sì, si, stia rubando un pochino. Ma Giamano, mamma mia. Fa quello fatto in B264, non rompe, bianco. Ehi, sincero. Ma che cosa stia rubando? L'ultimo non bagno di questo. Ti dai qualsiasi pompa, per favore? C'erano... C'erano... 23 di bianco. Aspetta. Aspetta un attimo, non so qui. Ho il cecchino qua. Ho uno shieldino per te pure, vieni. Vabbè, non aspetta. Anzi, te lo tiro. Ho trovato uno shieldone così a caso. Qua c'ho i cavoli che so. Comunque c'erano testato a caso di rubarmi un pochino. No, quattro no, serio. C'ho quello dentro che mi hai detto nel negozio. Sì, c'ho un altro da me, c'ho fatto 2264. Quindi... no, quattro. No. Aspetta un attimo, non so chi essere... Ho bisogno di scudi qua in piano. Guarda, non si fonde di scudi qua. Che schiena. Allora, non lo scende. Aspetta, non stai aspettando. Che schiena. Nooo, leggera la bomba. Leggera la bomba. Vai, vai, vai. Sì, sì. Ecco, io soffro il shieldone, c'ho. Tirami le quelle bomba. Come tirami le quelle bomba? Sto qua vicino al 3-game. Chiudo a questi bomba questo, no? Allo? No, no, no. Ciao a te. Ciao a te. Ciao a te. Ciao a te. Ciao a te, ma stavano il must-off. Papo del primo dici che diciamo che Papo Armagn non c'è cura? Che ci possiamo fare? Ho capito che è fin agosto però. C'è, è agosto però. Boh. Non so quanto sia schifo come stai niente. Papo Armagn hanno gli anni c'ho le splash. Te la puoi pure fare, se io la posso da 5 anni. Ma te l'hai fatto quel. Faccio il bottiglione e poi lo spazio Faccio il bottiglione Ma tu che c'è nella canzone? Faccio il bascaloglio, faccio il cazzo Porto pure lo scildone qua La granada la porto io Ah, porto la luce, poi c'ho scildone e splash per lui Uuuu, sacco blu, che bello Ah, c'ho... ah, vabbè Nella mia grande casa, e vabbè, qua niente Psss, psss Faccio il pallone di farloutare un altro po' qua e poi andiamo, no? Andiamo a riferire Faccio il pallone di farloutare qua e poi andiamo, andiamo a riferire Ma non ci siamo qui, andiamo a porto Cioè possiamo anche non muoverci volendo E poi No, non esageriamo volendo E no Ma poi splash Qua splash Buono, non me lo andiamo a portare C'è un 6 così 6 splash e 2 scildone per ora Mi hanno trovato una mezzamirriglietta qua Mi hanno trovato una mezzamirriglietta qua Mi hanno trovato una mezzamirriglietta qua No, veramente, se fosse stato scildone Scarr, vado No Mi sono messo col PR A 360 Come si può che sono messo col PR Aveva 192 Dai, mi hai aiutato qualcuno? Sì, sì Ma ti ho aiuto Mi hai fatto il Pritu che vuoi fa.. Ehm, ho il da iso, ho orto? No, no, no. Nembisò, non basta che c'è l'isola. Grazie a tutti. Ma non c'è il gioco, ma non c'è il gioco. Allora, lascia la vostra, non ho fatto? Allora, la vostra è la vostra spazz. Allora, la vostra è la vostra è la vostra. Allora, la vostra è la vostra è la vostra. Allora, non ho fatto la vostra. Allora, non ho fatto la vostra. La granata è già rivoluzionata Allora, questo è buono perchè è in un momento di interstacchi E non lo ha presi però Le ha rivalutate le granate Si ma le devi solo usare bene Non devi chiederti per esempio Non tu eh, solo in generale Vediamo che dobbiamo andare Eh, l'ho visto, l'ho appena accanto Qua c'è la notizia più una volta C'è la notizia più una volta C'è la notizia più una volta Colpini 3-3 C'è la notizia più una volta 300... Ma mamma Dove devi trovare questi polpi Ma quando finisce questa season Si sa di Fortnite perchè comunque Sto a livello 68 Eh, mi sa non ce la faccio Eh già ma devi iniziare a gioco un'altra volta Se giochiamo noi così che facciamo partite insieme Pure pure Devo stare a giocare da solo Se non ce la faccio perdere Non ciò ti valeva il 100% Nooo... Non mi devo giocare a battaglia eh Oppure se no Con 1000 di back che ho 1100 di back Mi compro qualche livello del pass Nooo... Non so quanto vale la pena però Nooo, non vale la pena A questo punto di compi... Di battaglia Un pass nuovo dici Ma dato che la carta taglia costa 950 Costa quindi... Su 150 Mi raccomando solo il diverso Quelli che farà Ma comunque Nabba staccato perchè sei nervosito Sì Su 4 guys Pago ma... Cosa è importante che devi andare a questa canzone in lì? Ok... Prova che non c'è il di niente 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 Eh già ma l'hai visto Che ti serve? C'è il di niente Che ti serve? Colpi di metrighetta C'è... Ah no ma c'è 114 C'è una vabbè Ehm... Dammi ne pure una ventina Una persona là? Si qua Uhuuuh... Ma vi sto... Ma hai visto comunque dimmi si è raiettato? 24 bianco è un bot genna lascio stare dobbiamo andare a farlo? lascio dai perchè non c'è roba diciamo una te l'ho fregata perchè comunque stiamo freddando e me l'ho trovato in bocca più che altro vai fattelo eccolo ok è atterrato intero che lo hai? intero lo puoi dopo ci dire una cecchinata in testa su eh già ma come cazzo lo interrogo a questo qua qui faccio lo sparo direttamente già ma questo qua c'ha un po' di tutto quindi è niente dove è compagno? non lo so non l'ho interrogato già ma poi ci stanno sento gente vicina stanno a fai da con lo squalo qua davanti papo con lo squalo arriva vabbè gianna lascio stare lascio stare lascio stare ucciso falli fai dare con chi cazzo gli pare mi stanno fai dando un altro squalo facendo sto squalo un attimo guardando tutto per intanto l'ho fatto che mi ha lasciato la mitraglietta bianca però per me dai che si può giocare bene questa partita dai nonostante siamo su fall guys e io non giocare da parecchi giorni a fortnite poi può essere che il primo fight serio moriamo eh però perchè comunque la gente questo gioco non è che gioca per divertirsi come su fall guys ma anzi no ma la gente è dry alta anche su fall guys e qua ieri siamo morti è un casino madonna ma per me io calcola però io pure ieri quando stavo giocando quella partita che ho visto che eravamo in 12 e poi mi ha dato tanto la finale infatti l'ha vinta la pinna stranamente ma vai da bilanciare per ottenere i mali di Iberta cosa? no vero lo dobbiamo fare? non ho capito dovete scendere i gesti di Iberta non si regge ai piedi sto fagiolo di Iberta no ma stai giocando a full guys che è il fagiolo? ma per me se vuoi un po' di materiale io sto messo abbastanza bene c'ho più legno 600 di maccione e 100 di ferro no no sta forte ok colpi cecchino c'ho un 63 ci stanno c'ho 6 splash ah se mi li vuoi da tanto giusto per perché non li uso diamone che livello sei? su che? su full guys? 15 tu? 20 già 20 vabbè d'altronde però stavi 3 livelli sotto di me come cazzo vabbè bella queste porte cazzo ci vuole bastare sempre a finale che fai 3 livelli al giorno ma sempre in finale non è che è così facile tranquillo se giochi 2 ore penso che si si ma io infatti ci sto giocando parecchio tempo tranquillo non solo questi giorni che sono stati da Napoli sono stati 3 giorni che mi carano sempre oh ho sparato per sbaglio e vabbè diciamo ne ho visto uno che non sbaglio mhm dove? eh eh spettamelo se riusci eh dietro gli alberi eh dietro gli alberi non lo so questi alberi qua da me eh? nooo qua da noi eh o qua sotto? nooo però qui in fondo qua qui no qui in fondo oh ok qua quindi per se fai vabbè c'è un attimo di tempo è venuto a qualcosa nel 9 siamo eh? si ma proprio questo dobbiamo stare un po' più zotto eh? no ok 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 no ok ok guarda.. questa è un fanto di tipo tff gass che a me va un'altra volta io faco quella, io stinotte fino alle tre abbiamo giocato tipo a full gas eh lo so ah voi avete continuato questa cazzo No, ma sta col tocco blu, lì? Eh, vabbè, lascia il paggiamo che io ho trovato, guarda, nel giro mi volevo pulitare un blu boom Eh, vabbè, vabbè Oh no, quella di tanti che sono stati, no Ma... c'è un pin, eh, è vero? No, io non c'ho niente proprio Nemmeno quello C'ho soltanto 50 colpi boom, mi passa... 300... 227 colpi air 500 quasi mitraglietta Ah, qua rimaniamo in alto, ovviamente, direi Sì, sì, passiamo per di qua, Genova Non penso che siamo in 6F qua, però rimaniamo in alto No, no, non siamo in 6F qua Per passaggio, eh Sì, andiamo con la funeria, che dici? No, no, è inutile andare con la funeria Sì, facciamo solo così Però... Eh, lo so, ma lo dobbiamo fare per forza, guarda dove siamo Eh, no, aspetta, ma giriamo per qua, che cazzo ci mette io della funeria Che se fa l'aggiramento alla zana? Sì Il stesso alla zana stiamo facendo No, Paco, eh, Paco Paco, io piglio la funeria Paco Eh, ma io sono arrivato, Genova, ciao No, vabbè, Paco io lo piglio un attimo, perché sennò piglio Tanno Ti sa che pure lo piglio Tanno, quindi, un po' Eh, io no... No, 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 non l'ho piglio, forse Ci ha impannato... 161 livello, ma che c'è... Quanto sto fregattando? Siamo a te parti aperti Sì, perché siamo in un campo troppo aperto qua Lo so La gente non aveva una vista mezza Ok, stanno da sotto Lascia di stare, lascia di stare Credi che aveva capito le costruzioni Lascia di stare, lascia di stare Sì, sì, tranquillo che li lascio perdere i colpi Sì, sì, tranquillo che li lascio perdere i colpi Sì, sì, tranquillo che li lascio perdere i colpi Sì, sì, tranquillo che li lascio perdere i colpi Sì, me ne frega, non mi sbatto qua Con il mio ferro No, Genova, no... No, non stai proprio a scendere Sì, sì, ma aspettiamo, però abbiamo un po' Camperoni Abbiamo messo l'albero a 50 Non lo rompe Sì, tengo detto qua Poi ho capito questa agenda Che... Devo regolarmi No, però... Non deve aiutare Che è un pochino più gustoso, eh Lo deve aiutare Dove? Poco poco, c'è mancato l'hub Ok, è arrivato L'hub Pio, lo pigliatelo vai Ah, regà, pigliatelo Diente, ho chiuso da tutte le parti per andare Non lo pigliatelo, vedi qua Ok Che schifo? Che c'è stato? Che schifo Una pistola pioca, e la pistola pioca Poco, non siamo mai in safe Che stanno queste sette persone? Poco, io vado di qua, quello che stanno Un po' di da me Da dove? Dito, dito Ok, una Unito Ok, una Unito 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 Ok, po' Ok Ok Già, ma hanno quasi I shieldini o cosa? Eh, si Ma qua ci sono anche i shieldini Capito? Si, si Eh, non triscioppiamo le shieldini Eh, se li do io, dove c'è stato? Ci abbiamo già interventi qua? Unito Ok, non parla Evidentino Non parla Unito Ok, non parla Unito E' una Unito 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 Ok, vai, vai, faccio la faccia. Adesso andiamo. Cioè, abbiamo una dietro di posta, eh? Sì, ma probabilmente di fatto. Che cazzo abbiamo combinato, no. Forse ci abbiamo ancora una rispetto. Nooo, non so, non lo vedo più. Guarda che stanno combinando là, pago. L'ho visto, ho visto. Eeeh, gem e niente. È proprio pelo quello, pago. Sì, non so. Mi sono spostato, non ci sarà tutto. Guarda, vedi? Riesce a pagare tutto, pò. Non c'è più no. Non c'è più no. Non mi posso capire il passo a seno. Sono acceso. Non c'è più no. 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 Cioè, ma siamo due contro, dove andiamo? Guarda, ma che sono, che sono? Certo, mi mi sono. Eeeh. Ma dove vuoi? Ma dove sta questo cerchino? Guarda, ma c'è il lì? Sì, io due e basta. Eh. Cosa faccio? Ma dovete? Non capisco. Cosa faccio? Cosa faccio? Allora, è una qua? È là dietro. È un'altra qua. Ne ho visto uno, qui? No, avevo distrutto uno, avevo lasciato cotto di vita